Papazzini vede che gliel fa gliela borsa borsa vedi ecco è il 10 minuti basta vedi qua vedi qua fai glee paris non sei una bella figa, sono passante vado a chiasci Gambe, devi massaggiare Gimbello, man si è bravo a massaggiare 25 secondi allora basta un minuto devi fare 1 2 3 5 6 6 7 l'hai guardata e golli a lott ... bravo mentre prendiamo un 격nopo da boh darker alias tanto la domanda la città d'amore fatta in barbara non lo facciamo a dire che davvero di amore di toglie ma non lo fa non lo fa no a non lo fa cosa la vita 50 50 50 50 50 50 20 50 50 50 50 50 50 50